Cari amici, buona serata. In queste ore ci state mandando molti messaggi di cui vi ringraziamo. Ringraziamo perché è un modo per stare insieme. È un modo per stare insieme in questi giorni strani, in questi giorni che ci stanno riportando a delle situazioni che forse non avevamo mai vissuto e che spesso, infatti, non per niente, vengono evocate come situazioni quasi di guerra. In questi giorni mi è capitato fra le mani il libro di Fenoglio più celebre, quello del partigiano Johnny, e in una pagina mi ha molto colpito un racconto che adesso vi voglio riproporre, perché dice comunque di un bene, di una speranza, di un qualcosa che non va mai perso anche nelle situazioni più difficili. È nel trentaseiesimo capitolo. Un'anziana ospitava sempre giovani partigiani con grande generosità. Avviene un rastrellamento, viene distrutto tutto. Prima l'anziana viene fatta prigioniera e poi liberata. Dai partigiani che sono scappati ritorna Johnny che la accoglie, però è in una cascina completamente devastata, non c'è più nulla e la donna è desolata. Ma cosa accade? Che quando lei rientra col partigiano Johnny in casa sua, sulle colline e le colline circostanti la voce si spalge del suo ritorno e pian piano tutti i vicini incominciano ad affluire. Succede questo meraviglioso miracolo. La vecchia aveva tirato su la meno fracassata delle sue sedie ed ora sedeva come in trono, un fazzoletto al naso e gli occhi distolti dall'uscio. La gente entrò. In silenzio mostrò i deposidoni e gli aiuti. Poi parlò con voci sedate e sguardi sobri. Non è molto, ma sapete i tempi almeno quanto noi. Per piacere, fateci una faccia serena e sollevata perché a una donna della vostra età ed esperienza non si insegna che è la vita che conta. La roba no, la roba si rifà. E la vostra vita è salva adesso. Ne ho passate, sospiro lei. Tutto ho passato, posso dire. Mi hanno processato e hanno osato dire che meritavo la morte solo perché davo tette da mangiare a tanti bravi ragazzi come questo qui presente. Quante ne ho passate. Ora ne siete fuori, disse un vecchio, e poi vi daranno la medaglia. La medaglia che fa una donna completamente rovinata. Parlò il mezzadro della serra dei pini. Non parlate così, padrona, perché andate vicino a bestemmiare. Pensate a tutti quelli che per fare esattamente le vostre stesse cose hanno avuto le case bruciate e le gente uccise. Poi le donne fecero uscire gli uomini e presero a scopare, nettare e riassettare. La vecchia aveva accennato di alzarsi e unirsi all'opera, ma le altre la inchiodarono giù. E state allegra, perché ora tutto è passato. Non posso, proprio non posso stare allegra. Tutto somiglia così tanto quando fui lasciata vedova. Finirono e partirono, lasciando tutto ripulito e riassettato. La unità della stanza depredata pigliando più triste evidenza. Le donne avevano lasciato anche cibi pronti e di essi mangiarono loro due soli. In questo c'è un'evidenza, un bene, un bene che passa dallo stare insieme. E quello che noi possiamo fare in questi giorni è proprio non lasciarci travolgere da quella che potrebbe essere una negatività, ma invece continuare a sperare insieme.